Oggi parte l'undicesima edizione di SeisCult, la cultura della vendita. Perché partecipare al percorso sulla vendita? Perché vendere non significa più soltanto essere capace a vendere, ma significa gestire l'interno processo, avere competenze anche sull'evoluzione tecnologica, sugli economics, sulla capacità di scrivere, capire un attimo quali sono i social che possono essere utili per l'attività di vendita. Tutto questo fa parte della cultura della vendita che oggi deve essere attualizzata. Infatti anche il mondo accademico e anche gli studiosi di management oggi si sono resi conto che la funzione vendita è diventata sempre più importante e anche strategica all'interno delle aziende, perché la relazione con il mercato è sempre più fondamentale. Quindi quando noi parliamo di cultura della vendita parliamo di un insieme di competenze che chi si occupa di commerciale deve possedere, soprattutto deve attualizzare sulla base dei cambiamenti che sono avvenuti in questi anni.